Lezione 1. Esplorando la città. Dovreste impiegare circa 10 minuti a piedi per raggiungere la maggior parte delle attrazioni. Fantastico! Mi piace camminare e ammirare luoghi di interesse. Ci sono punti di riferimento che dovrei conoscere? Sì, c'è una bellissima cattedrale antica con intricate vetrate colorate. Le cattedrali hanno sempre un'architettura straordinaria. Cos'altro c'è da vedere? C'è una piazza storica con una famosa statua al centro. Sembra un ottimo posto per scattare qualche foto. C'è anche un incantevole fiume che attraversa la città. Le passeggiate lungo il fiume sono sempre tranquille e rilassanti. Lungo la riva del fiume ci sono sentieri e panchine. È il posto perfetto per un picnic. Dovremmo preparare degli snack. Assolutamente! Mi assicurerò di portare delle prelibatezze. Non vedo l'ora di esplorare la città con te, Anna. Lezione 2. Piani turistici. Ciao, Anna. Sei entusiasta del nostro prossimo viaggio? Assolutamente! Non vedo l'ora di esplorare nuovi posti. Anche io. Hai in programma di visitare la città? Sì, ci sono alcuni posti che vorrei visitare. Dove andiamo prima? Cominciamo con il famoso museo d'arte. Ha una collezione impressionante. Sono sempre affascinato dall'arte di epoche diverse. Dopo il museo d'arte, possiamo visitare i giardini botanici. Essere circondati da splendidi fiori e piante sembra incantevole. Spero che il tempo sia bello per un'esperienza rinfrescante. Qual è il prossimo passo nella nostra lista? Esploriamo il quartiere storico. È pieno di negozi e caffè caratteristici. Passeggiare per le vecchie strade sembra affascinante. Possiamo anche visitare il museo di storia locale per conoscere il passato della città. È sempre interessante scoprire il patrimonio locale. E per concludere la nostra giornata, possiamo fare una crociera al tramonto lungo il fiume. Guardare il tramonto sull'acqua sarà mozzafiato. Sfruttiamo al massimo la nostra avventura turistica, John. Abbiamo bisogno di un nuovo team per nuove idee. Assolutamente. Introdurre nuove prospettive può essere molto utile. Nel frattempo, assicuriamoci di mantenere un ambiente collaborativo. Questo è importante. Tutti dovrebbero sentirsi a proprio agio nel condividere i propri pensieri. Possiamo programmare sessioni di brainstorming regolari per generare idee. È un ottimo modo per sfruttare la creatività collettiva del team. Dovremmo anche incoraggiare una comunicazione aperta e una partecipazione attiva. Sicuramente. Tutti dovrebbero sentirsi apprezzati e ascoltati durante le discussioni. A volte, trovo che prendersi una pausa è allontanarsi dal problema aiuti. Può fornire una nuova prospettiva e suscitare nuove idee. Quanto tempo pensi che dovremmo dedicare al brainstorming? Penso che da 45 minuti a un'ora potrebbero essere un buon lasso di tempo. Questo dovrebbe darci abbastanza tempo per esplorare diverse possibilità. Di solito corro per 20 minuti, ma sono disponibile a modificare il mio programma. Lezione 4. Routine di fitness. Ciao Anna. Quanto spesso ti alleni? Cerco di allenarmi almeno 3 volte a settimana. È una buona frequenza. Quanto durano di solito i tuoi allenamenti? A volte faccio 45 minuti, a seconda del tipo di esercizio. La corsa è un ottimo modo per aumentare la frequenza cardiaca e mantenersi in forma. È comodo e mi aiuta a iniziare la giornata con energia. Incorpori altri esercizi nella tua routine? Sì, faccio anche esercizi di allenamento della forza alcune volte a settimana. Questo è ottimo. È importante lavorare sia sul cardio che sulla forza. Sono d'accordo aiuta a mantenere la forma fisica generale e il tono muscolare. E non dimenticare di fare stretching prima e dopo gli allenamenti. Lo stretching è fondamentale per la prevenzione degli infortuni e la flessibilità. Assolutamente. Restiamo fedeli alla nostra routine di fitness, John. Lezione 5. Consigli di cucina. Quando cucini gli spaghetti di riso, assicurati di immergerli correttamente. Assolutamente. L'ammollo aiuta ad ammorbidire le tagliatelle prima della cottura. E attenzione a non cuocerli troppo, devono essere al dente. Una cottura eccessiva può rendere le tagliatelle molli, e perdere la loro consistenza. È importante seguire le istruzioni sulla confezione per il tempo di cottura. E tieni sempre d'occhio gli spaghetti mentre cucinano. In questo modo, puoi assicurarti che siano cotti con la giusta consistenza. Una volta cotti, scolatele subito per fermare il processo di cottura. E se non li usi subito, condiscilhi con un filo d'olio. In questo modo, non si raggrupperanno mentre si raffreddano. Ricorda che cucinare spaghetti di riso richiede attenzione ai dettagli. Lezione 6. Negoziare un accordo equo. Apprezzo il tuo contributo al processo di negoziazione. Grazie John. È importante avere discussioni aperte e oneste. Assolutamente. Il nostro obiettivo è raggiungere un accordo equo che soddisfi entrambe le nostre esigenze. Dovremmo considerare gli interessi reciproci e trovare un terreno comune. È fondamentale ascoltarsi l'un l'altro e comprendere le diverse prospettive. Concentriamoci sulla ricerca di soluzioni reciprocamente vantaggiose. Possiamo esplorare opzioni e proporre compromessi lungo la strada. È importante mantenere un'atmosfera rispettosa e collaborativa. Dovremmo essere disposti a fare concessioni e trovare risultati vantaggiosi per tutti. Lavorando insieme, possiamo raggiungere un accordo soddisfacente. Manteniamo aperte le linee di comunicazione e continuiamo la negoziazione. Lezione 7. Scegliere un ristorante. Ho voglia di provare un nuovo ristorante. Qualche consiglio? Beh, dipende dal tuo budget e dal tipo di cucina che preferisci. Sono aperto a diverse opzioni. Voglio solo esplorare qualcosa di diverso. C'è un nuovo ristorante Fusion alla moda che ha ricevuto ottime recensioni. Offrono un mix di sapori asiatici e mediterranei, creando piatti unici. Sembra un'avventura culinaria. Sono entusiasta di provarlo. Assicurati di controllare il loro menu online per vedere se soddisfa le tue preferenze. Buona idea, farò qualche ricerca e vedrò se è in linea con quello che mi piace. E non dimenticate di leggere le recensioni dei clienti per farvi un'idea dell'esperienza culinaria. Assolutamente. È sempre utile conoscere le esperienze di altre persone. Goditi la tua esperienza culinaria nel nuovo ristorante John. Lezione 8. Prendersi una pausa. Ho lavorato senza sosta e ho bisogno di una pausa. È importante fare delle pause per evitare il burnout. Non preoccuparti di fare un passo indietro. Ma cosa succede se fare una pausa influisce sulla mia produttività o sui progressi del team? Non preoccupatevi. Il personale rispetterà comunque il tuo bisogno di riposo e ringiovanimento. Immagino tu abbia ragione. È essenziale dare priorità alla cura di sé. Assolutamente. Fare delle pause permette di ricaricarsi e tornare riposati. Mi assicurerò di comunicare con il team i miei piani per le pause. Questa è una buona idea. La trasparenza e la comunicazione aperta sono fondamentali. Mi assicurerò inoltre che eventuali attività in sospeso vengano delegate o gestite in anticipo. In questo modo, puoi prenderti una pausa senza preoccuparti del lavoro incompiuto. Grazie per la comprensione e il supporto, Anna. Benvenuto, John. Ricorda che prendersi cura di sé è importante. Lezione 9. Scegliere una destinazione per le vacanze. Sto pensando di pianificare una vacanza. Potrei godermi la costa rica o Bali. Entrambi sembrano meravigliosi. Come suggerisci di decidere tra le due? Possiamo considerare fattori come le attività disponibili e il costo del viaggio. Questo è un buon punto di partenza. La costa rica è nota per il suo ecoturismo e gli sport d'avventura. Sì, offre opportunità per fare escursioni, fare teleferica ed esplorare le foreste pluviali. Bali, d'altra parte, è famosa per le sue bellissime spiagge e la sua vivace cultura. È anche noto per i suoi ritiri yoga e le esperienze spirituali. Dovremmo anche considerare i costi di viaggio e i requisiti per il visto per ciascuna destinazione. Questo è vero. Dobbiamo assicurarci che il nostro budget sia in linea con le relative spese. Inoltre, possiamo effettuare ricerche sulle condizioni meteorologiche durante le date di viaggio previste. Ottima osservazione. Vogliamo assicurarci che il clima sia adatto alle attività che pianifichiamo. Raccogliamo maggiori informazioni e prendiamo insieme una decisione informata. Lezione 10. Condivisione dei biscotti con gocce di cioccolato. Ho preparato dei biscotti al cioccolato e sono stati un successo. Oh, adoro i biscotti al cioccolato. Puoi condividere la ricetta con me? Certo. È una ricetta classica con burro, zucchero, farina e, naturalmente, gocce di cioccolato. Usi qualche tecnica speciale per renderli ancora più deliziosi? Mi piace raffreddare l'impasto prima di infornarlo. Aiuta i biscotti a mantenere la loro forma. Questo è un ottimo consiglio. Mi assicurerò di provarlo quando li cuocerò. E non dimenticare di utilizzare gocce di cioccolato di alta qualità per il miglior sapore. Lo terrò a mente. Grazie per aver condiviso la tua ricetta, John. Benvenuta, Anna. Goditi i biscotti. Lezione 11. Prenotazione di alloggi. Sto programmando un viaggio e voglio assicurarmi la disponibilità, soprattutto durante l'alta stagione. Questo è un approccio intelligente. È importante prenotare gli alloggi in anticipo. Con quanto anticipo suggerisci di effettuare le prenotazioni? Dipende dalla destinazione e dal periodo dell'anno. Alcuni posti si riempiono velocemente. Devo prendere in considerazione la possibilità di prenotare direttamente con gli hotel o utilizzare piattaforme di viaggio online? Entrambe le opzioni hanno i loro vantaggi. Le piattaforme online offrono un'ampia gamma di scelte. Lo terrò a mente. Voglio assicurarmi di avere opzioni tra cui scegliere. Inoltre, leggere le recensioni degli ospiti precedenti può aiutarti a prendere una decisione informata. Ottima osservazione. È utile conoscere le esperienze di altre persone. Infine, non dimenticare di controllare le politiche di cancellazione prima di effettuare una prenotazione. Giusto, la flessibilità è importante in caso di cambiamenti imprevisti nei piani. Lezione 12. Creare un'oasi verde. Voglio creare la mia oasi verde a casa. È un'idea meravigliosa. Sei la benvenuta. È un'esperienza gratificante. Come mi suggerisci di iniziare? Inizia selezionando piante che prosperano in case e si adattano al tuo stile di vita. Le piante ragno, ipotos e le piante serpenti richiedono poca manutenzione e sono ottime per i principianti. Mi assicurerò di prenderli. Qualche consiglio per prendersi cura delle piante d'appartamento? Ricorda di annaffiarli in modo appropriato, fornire un'adeguata luce solare e concimazioni occasionali. Imposterò dei promemoria per annaffiarli regolarmente e trovare punti adatti con abbastanza luce solare. Questo è un buon piano. La tua oasi verde porterà bellezza e un senso di tranquillità. Sono entusiasta di vedere come trasforma il mio spazio vitale. Grazie Anna. Benvenuto, John. Goditi il tuo viaggio nel mondo del giardinaggio indoor. Lezione 13. Iniziare con il giardinaggio Voglio iniziare a fare giardinaggio. Ho bisogno di una pala, un rastrello, un annaffiatoio e dei guanti da giardinaggio. Questi sono strumenti essenziali da avere. Ti aiuteranno a iniziare il tuo viaggio nel giardinaggio. Dove mi consigliate di acquistare questi attrezzi da giardinaggio? Puoi controllare i negozi di giardinaggio locali o anche i mercati online per un'ampia selezione. Devo investire in strumenti di alta qualità o quelli di base sono sufficienti per un principiante? Iniziare con strumenti di base va bene, ma investire in strumenti di qualità può rendere l'esperienza più piacevole. Questo ha senso. Voglio strumenti che durino e siano comodi da usare. È anche importante considerare il tipo di giardinaggio che intendi fare. Potrebbero essere necessari strumenti diversi per attività specifiche. Lo terrò a mente e sceglierò gli strumenti adatti alle mie esigenze di giardinaggio. Lezione 14. Esplorando il quartiere Di recente mi sono trasferito in un nuovo quartiere. Ci sono buoni ristoranti nelle vicinanze? È emozionante. Sono sicuro che troverai delle ottime opzioni per la ristorazione. Hai qualche consiglio per cucine o tipi di ristoranti specifici? Dipende dalle tue preferenze. Che tipo di cibo ti piace? Sono aperto a provare cucine diverse. Mi piace esplorare nuovi sapori. In tal caso, suggerisco di chiedere alla gente del posto i loro luoghi preferiti o di controllare le recensioni online. Questa è una buona idea. Ricevere consigli dalla gente del posto può portare a gemme nascoste. Esplorare il quartiere a piedi può anche aiutarti a scoprire ristoranti che altrimenti non potresti trovare. Mi piaceva fare passeggiate, quindi sembra un ottimo modo per trovare nuovi posti dove mangiare. Assolutamente. È un modo meraviglioso per immergersi nella cultura e nella scena culinaria locale. Non vedo l'ora di scoprire alcune deliziose esperienze culinarie. Grazie Anna. Benvenuto, John. Divertiti a esplorare il tuo nuovo quartiere. Lezione 15. Consigli sui giochi da tavolo. Hai giocato a qualche divertente gioco da tavolo ultimamente? Sì, l'ho fatto. Dovresti assolutamente provare Scrable & Clue. Sono davvero impegnativi e divertenti. Ho sentito parlare di Scrable & Clue, ma non ci ho mai giocato. Come funzionano? Scrable è un gioco di parole in cui i giocatori creano parole su una tavola usando tessere con lettere. Clue è un gioco di risoluzione di misteri in cui i giocatori deducono chiacchieranno sicuramente alla prova il tuo vocabolario e le tue capacità di deduzione. Sono adatti a gruppi di dimensioni diverse o sono migliori per un numero specifico di giocatori? Scrable può essere giocato da due a quattro giocatori, mentre Clue è il migliore con tre e sei giocatori. È bello saperlo. Posso suonarli con gli amici o anche divertirmi da solo. Assolutamente. Sono versatili e possono offrire ore di intrattenimento. Lezione 16. Esplorazione del parco locale Di recente ho visitato un parco locale ed è stato mozzafiato. Ci sei stato? Hai esplorato anche Park Gull? È un bellissimo parco con paesaggi mozzafiato. Sì, l'ho fatto. La bellezza naturale del parco era affascinante. L'atmosfera serena e la vegetazione lussureggiante lo rendono un luogo perfetto per rilassarsi e distendersi. Non potrei essere più d'accordo. Sembrava una tranquilla fuga dalla frenetica città. Sì, ho fatto una piacevole passeggiata lungo i sentieri e mi sono goduto i panorami pittoreschi. Il parco offre una meravigliosa opportunità per entrare in contatto con la natura e apprezzarne le meraviglie. È fantastico avere un parco così mozzafiato nelle vicinanze. Ci tornerò sicuramente. Sono contenta che ti sia piaciuta. Parchi come Park Gull offrono un rifugio tranquillo per il divertimento di tutti. Lezione 17. Consigli di viaggio Sto programmando un viaggio a break. Qualche consiglio su come tenere al sicuro i documenti importanti durante il viaggio? Questo è un buon punto. È essenziale tenerli in un luogo sicuro. Cosa consiglieresti per tenere al sicuro i documenti mentre sei in viaggio? Un organizer da viaggio o una custodia sicura possono essere utili per conservare documenti come passaporti, carte d'identità e biglietti. Devo tenerli sempre con me o lasciarli in hotel? È meglio tenerli con te, preferibilmente in una borsa sempre a portata di mano. Questo ha senso. Non vorrei rischiare di perderli o farmi rubare. Inoltre, valuta la possibilità di creare copie digitali dei tuoi documenti e di archiviarli in modo sicuro nel cloud o nell'email. È un'ottima idea come backup. Lo farò sicuramente. Ricorda di essere cauto e consapevole di ciò che ti circonda, specialmente nelle aree affollate. Lezione 18. Esplorazione del mondo sottomarino Ho sentito che lo snorkeling in questa zona è fantastico. L'hai provato? Sicuramente. Lo snorkeling è un modo meraviglioso per esplorare il colorato mondo sottomarino. Che tipo di vita marina possiamo aspettarci di vedere facendo snorkeling? Probabilmente incontrerai vivaci barriere coralline, pesci tropicali e forse anche tartarughe marine o razze. Sembra incredibile. Sono entusiasta di vedere la bellezza sotto la superficie. Spesso sono disponibili tour di snorkeling, dove guide esperte possono portarti nei luoghi migliori. È fantastico saperlo. Mi sentirei più a mio agio se avessi una guida che mi facesse da guida. Possono fornire attrezzature e garantire la tua sicurezza mentre ti godi l'affascinante scenario sottomarino. Non vedo l'ora di immergermi e assistere in prima persona alle meraviglie dell'oceano. È un'esperienza indimenticabile. Goditi la tua avventura di snorkeling. Lezione 19. Archiviazione sicura in un hotel. Sto programmando un viaggio e mi chiedevo se fosse sicuro custodire oggetti di valore in un hotel. Non preoccuparti. La maggior parte degli hotel offre opzioni di deposito sicuro per gli effetti personali degli ospiti. Questo è rassicurante. Come funziona? Avrò accesso ai miei articoli ogni volta che ne avrò bisogno? Gli hotel spesso forniscono cassette di sicurezza o casseforti in camera dove gli ospiti possono riporre i loro oggetti di valore. Sembra conveniente. Dovrò portare il mio lucchetto o la mia chiave? No, avrai una chiave unica per accedere alla tua casella. L'hotel la fornirà al momento del check-in. Questo è conveniente. È bello sapere che i miei effetti personali saranno ben protetti durante il mio soggiorno. Assolutamente. È un modo affidabile per proteggere i tuoi oggetti di valore e darti tranquillità. Lezione 20. Espansione nei mercati internazionali. La nostra attività sta andando bene a livello locale. Che ne dici di espanderti nei mercati internazionali? Questa è un'ottima idea. Avventurarsi nei mercati internazionali può offrire nuove opportunità di crescita. Quali sono alcuni fattori chiave che dovremmo considerare prima di espanderci a livello globale? La ricerca della domanda di mercato, delle differenze culturali, e dei requisiti legali nei paesi target è essenziale. Sono d'accordo, dobbiamo comprendere le usanze e le normative locali per avere successo in nuovi mercati. È inoltre fondamentale adattare i nostri prodotti e le strategie di marketing per soddisfare la clientela internazionale. Sicuramente. Dovremmo mirare a fornire valore e soddisfare le esigenze specifiche dei clienti in ogni mercato. Inoltre, può essere utile costruire relazioni con partner locali, o assumere dipendenti che abbiano familiarità con il mercato di riferimento. L'espansione a livello internazionale richiede un'attenta pianificazione e la volontà di adattamento. È un'entusiasmante opportunità di crescita. Assolutamente. Può aprire le porte a una base di clienti più ampia e aiutarci a prosperare nel mercato globale. Lezione 21. Per seguire le passioni personali. Ultimamente ho pensato di dedicarmi a una passione personale. È più piacevole quando si tratta solo di una passione personale, non credi? Assolutamente. Quando la tua passione è qualcosa che fai per te stesso, ti porta a un'immensa soddisfazione. È bello avere qualcosa che porti gioia senza pressioni o aspettative esterne. Questo è comprensibile. Quando è solo per la tua soddisfazione personale, ti permette di esprimerti liberamente. Esattamente. È un modo per esplorare i tuoi interessi e coltivare la tua creatività senza limiti. Avere una passione personale può anche fornire una fuga tanto necessaria dalle esigenze della vita quotidiana. È una sensazione meravigliosa immergersi in qualcosa che si ama, anche se solo per poco tempo. Può essere una fonte di ringiovanimento e un modo per trovare un equilibrio nella frenesia della nostra vita. Sono contento che condividiamo la stessa prospettiva. Per seguire le passioni personali è davvero arricchente. Trovo che la mattina presto sia un momento perfetto per momenti di pace prima dell'inizio della giornata. Non sei d'accordo? È un momento in cui il mondo si sta ancora risvegliando e c'è un senso di tranquillità nell'aria. Questo è vero. Offre un'opportunità per riflettere, ringraziare e definire le intenzioni per il giorno a venire. Mi piace il silenzio e la solitudine, che mi permettono di raccogliere i miei pensieri e prepararmi per ciò che verrà. È anche il momento ideale per attività di cura di sé come la meditazione, il diario o semplicemente per godersi una tazza di tè. Quei momenti di pace al mattino mi aiutano ad affrontare la giornata con una mente lucida e un cuore sereno. È un momento prezioso per entrare in contatto con noi stessi prima che la frenesia del mondo esterno prenda il sopravvento. Sono contento che apprezziamo il valore di questi momenti di pace mattutini. Fanno davvero la differenza. Lezione 23. Pianificare una festa. Mi piacciono queste idee per la festa. Dove dovremmo andare a trovare queste forniture per feste? Ci sono diverse opzioni. Possiamo dare un'occhiata ai negozi di articoli per feste della zona o anche cercare online. Questo è un buon suggerimento. Penso che la navigazione online ci offrirà un'ampia varietà di opzioni tra cui scegliere. Assolutamente. I negozi online offrono spesso un'ottima selezione e comode opzioni di consegna. Avete in mente qualche sito web specifico dove possiamo trovare articoli per feste? Ci sono rivenditori online famosi come Amazon e Party City che offrono una vasta gamma di articoli per feste. Sembra conveniente. Possiamo esplorare i loro siti web e vedere cosa hanno da offrire. Inoltre, possiamo anche dare un'occhiata ai negozi locali di articoli per feste nel nostro quartiere per un tocco più personale. Questa è una buona idea. È sempre bello supportare le imprese locali ogni volta che è possibile. Sicuramente. Possono avere articoli unici e specializzati che possono aggiungere un tocco speciale alla nostra festa. Sono contento che abbiamo delle opzioni. Cominciamo cercando online e poi esplorando i negozi locali, se necessario. Lezione 24. Decidere cosa ordinare. È una buona giornata. Qualche suggerimento su cosa ordinare? Che ne dici di provare qualcosa di nuovo? Possiamo esplorare una cucina che non abbiamo mai provato prima. Sembra eccitante. Hai in mente qualche cucina specifica? Potremmo provare il cibo thailandese. È noto per i suoi piatti saporiti e aromatici. Questo è un ottimo suggerimento. Ho sentito che la cucina thailandese ha un buon equilibrio di sapori dolci, speziati e salati. Sì, è una combinazione deliziosa. Possiamo ordinare piatti come il pad thai, il green curry o la zuppa tom yum. Mi piace come suona. Esploriamo alcuni ristoranti thailandesi locali della zona e controlliamo il loro menu. Questo è un buon piano. Possiamo leggere le recensioni e vedere quali luoghi sono altamente consigliati. Una volta deciso il ristorante, possiamo effettuare l'ordine e gustare un pasto gustoso e avventuroso. È un modo divertente per provare qualcosa di nuovo, ed espandere i nostri orizzonti culinari. Non vedo l'ora. Troviamo un ristorante thailandese e facciamo l'ordine. Lezione 25. Trovare accessori economici. Stavo pensando di aggiungere alcuni accessori economici al nostro salotto, come cuscini o tappeti. Cosa ne pensi? Questa è un'ottima idea. Accessori come cuscini e tappeti possono davvero migliorare l'aspetto e l'atmosfera di uno spazio. Sono d'accordo possono aggiungere colore, consistenza e un'atmosfera accogliente alla stanza senza spendere troppo. Sicuramente. Possiamo cercare opzioni economiche nei negozi di arredamento per la casa o anche nei mercati online. Ho sentito dire che i negozi dell'usato e i negozi di seconda mano possono anche essere uno scrigno di accessori unici e convenienti. Questo è vero. I negozi dell'usato hanno spesso delle gemme nascoste che possono aggiungere carattere al nostro arredamento. Possiamo anche prendere in considerazione progetti fai-da-te per creare i nostri accessori personalizzati a un costo inferiore. Questa è un'idea creativa. Realizzare i nostri cuscini o riutilizzare vecchi tessuti in tappeti può essere un progetto divertente. Questo mi piace. Aggiunge un tocco personale e ci permette di mostrare la nostra creatività. Esploriamo diverse opzioni e fonti per trovare le migliori offerte sugli accessori economici per il nostro salotto. Sembra un piano. Possiamo iniziare visitando alcuni negozi locali e controllando le piattaforme online per trovare offerte convenienti. Lezione 26. Alla ricerca di ulteriore aiuto. Ehi, hai mai pensato a dove possiamo trovare ulteriore aiuto per il nostro progetto? Questo è un buon punto. A volte è utile chiedere assistenza quando ne abbiamo bisogno. Anzi. Può farci risparmiare tempo e fatica, soprattutto se abbiamo a che fare con un compito complesso o sconosciuto. Un'opzione è assumere professionisti specializzati nell'area in cui abbiamo bisogno di aiuto. Questo è vero. Hanno le competenze e l'esperienza per guidarci e garantire che il lavoro venga svolto correttamente. Possiamo anche prendere in considerazione la possibilità di chiedere aiuto ad amici o familiari che hanno conoscenze o competenze in quella particolare area. Questa è un'ottima idea. Ottenere aiuto da qualcuno che conosciamo e di cui ci fidiamo può rendere il processo più comodo e piacevole. Inoltre, ci sono community e forum online in cui possiamo porre domande e chiedere consigli a persone con interessi o esperienze simili. Questa è una risorsa preziosa. Possiamo attingere alla saggezza collettiva di una comunità e imparare dalle loro intuizioni. Esploriamo queste diverse strade e troviamo il giusto tipo di aiuto in linea con le esigenze del nostro progetto. Concordato. È importante riconoscere quando possiamo beneficiare dell'assistenza e prendere provvedimenti per richiederla. Lezione 27. Condimenti per pizza. Ho voglia di una pizza stasera. Quali condimenti preferisci di solito? Di solito preferisco mozzarella, peperoni e alcune verdure a fette come peperoni e cipolle. Sembra delizioso. Mi piace la combinazione di sapori e consistenze. È una scelta classica che non delude mai. Il formaggio fuso, i peperoni salati e la freschezza delle verdure funzionano bene insieme. Sono d'accordo è una combinazione equilibrata e soddisfacente. Hai altri condimenti preferiti? A volte mi piace cambiarlo e aggiungere delle foglie di spinaci per un po' di verde, e aggiungere nutrienti. Questa è un'ottima idea. Gli spinaci aggiungono un gusto fresco e leggermente terroso alla pizza. Inoltre, è un buon modo per incorporare alcune verdure nel nostro pasto. Mi assicurerò che siano croccanti e saporiti. Lo apprezzo. È bello avere una varietà di condimenti tra cui scegliere per soddisfare le nostre preferenze. Assolutamente. La pizza è un piatto versatile che ci permette di essere creativi e personalizzarlo a nostro piacimento. Ordiniamo una pizza con i nostri condimenti preferiti e godiamoci un pasto soddisfacente stasera. Lezione 28. Opzioni di crosta di pizza. Quando si tratta di pizza, hai una preferenza per il tipo di crosta? Personalmente, mi piace una crosta sottile e croccante. Aggiunge una bella croccantezza alla consistenza generale della pizza. Questa è una buona scelta. Le pizze a crosta sottile sono leggere e lasciano risplendere i sapori dei condimenti. Mi piace anche la masticabilità di una tradizionale crosta fatta a mano. Ha una consistenza soddisfacente. Questo è vero. Le croste saltate a mano possono essere un po' più spesse e fornire un morso più corposo. Un'altra opzione da considerare è una crosta ripiena. Aggiunge uno strato aggiuntivo di formaggio o altri ripieni per un'esperienza più indulgente. Le croste ripiene sono sicuramente una delizia. Aggiungono un elemento sorpresa e un tocco di formaggio in più ad ogni boccone. In definitiva, si tratta di preferenze personali. Alcune persone amano le croste spesse e pastose, mentre altre preferiscono le croste senza glutine o di cavolfiore. Questo è il bello della pizza. Sono disponibili così tante opzioni di crosta per soddisfare diversi gusti ed esigenze dietetiche. Scegliamo il tipo di crosta che più ci piace e rendiamo la nostra esperienza con la pizza ancora più piacevole. Concordato. Che sia sottile e croccante o densa e gommosa, la pizza piace sempre alla folla. Lezione 29. Cambio di valuta. Presto viaggerò in un paese straniero e ho bisogno di cambiare valuta. Sai dove posso farlo? Nessun problema ci sono servizi di cambio valuta negli aeroporti, nelle banche e in alcune agenzie di viaggio. Possono aiutarti a convertire i tuoi soldi. È bello saperlo. Mi assicurerò di trovare un posto affidabile con tariffe competitive. È anche una buona idea controllare preventivamente i tassi di cambio per assicurarsi di ottenere un accordo equo. Lo terrò a mente. Devo portare contanti o usare la mia carta di credito durante il viaggio? È sempre una buona idea avere dei contanti a portata di mano per piccole spese o luoghi che potrebbero non accettare carte di credito. Questo ha senso. Allora cambierò dei contanti. Posso ricevere anche delle banconote più piccole per comodità? Certo. Avere bollette più piccole può essere utile per mance, trasporti pubblici o piccoli acquisti. Richiederò denominazioni più piccole al momento del cambio di valuta. Grazie per il consiglio. Lezione 30. Prenotare un servizio. Devo prenotare un servizio che costi 30 dollari all'ora. Posso prenotare una fascia oraria in anticipo? Sì, dovresti essere in grado di prenotare una fascia oraria contattando direttamente il fornitore di servizi. È bello saperlo. Li contatterò e informerò sulla loro disponibilità. Assicurati di fornire loro i dettagli necessari come la data e la durata richieste. Darò loro tutte le informazioni di cui hanno bisogno in modo che possano soddisfare la mia richiesta. È sempre una buona idea prenotare in anticipo, soprattutto se il servizio è molto richiesto. Sono d'accordo voglio assicurarmi la mia fascia oraria preferita per evitare conflitti di programmazione. Una volta effettuata la prenotazione, confermeranno la prenotazione, e ti forniranno ulteriori istruzioni, se necessario. Seguirò le loro istruzioni e prenderò le disposizioni necessarie. Grazie per il tuo aiuto. Siete i benvenuti. Spero che tutto proceda senza intoppi con la tua prenotazione. Lezione 31, Summit sui cambiamenti climatici. Cosa hai in mente? Il Vertice sui cambiamenti climatici sta facendo notizia ultimamente. Sì, è un evento cruciale in cui i leader mondiali si riuniscono per affrontare l'urgente questione del cambiamento climatico. È stimolante vedere i paesi intraprendere azioni collettive per mitigare l'impatto dei cambiamenti climatici. Assolutamente. Il Vertice fornisce una piattaforma per le discussioni sulle soluzioni sostenibili e sull'importanza della conservazione ambientale. È uno sforzo globale per creare un futuro più sostenibile per le generazioni a venire. Il Vertice sensibilizza anche sulla necessità per le persone di fare scelte ecologiche nella loro vita quotidiana. Ogni piccola azione conta quando si tratta di proteggere il nostro pianeta. Tutti possiamo contribuire a ridurre le emissioni di carbonio e preservare le risorse naturali. Esattamente. È importante rimanere informati sugli ultimi sviluppi e sostenere le iniziative che promuovono uno stile di vita più ecologico. Il Vertice sui cambiamenti climatici serve a ricordare che tutti abbiamo un ruolo da svolgere nella creazione di un mondo sostenibile e resiliente. Restiamo impegnati e continuiamo a sostenere gli sforzi che affrontano i cambiamenti climatici proteggono il nostro ambiente. Lezione 32. Pianificazione delle attività all'aperto Il tempo è bello oggi. Dovremmo pianificare alcune attività all'aperto. Questa è un'ottima idea. È sempre piacevole trascorrere del tempo all'aperto. Dovremmo controllare le previsioni del tempo per assicurarci che rimangano favorevoli per tutto il giorno. Ottima idea. È importante essere preparati a qualsiasi cambiamento delle condizioni meteorologiche. Dovremmo anche considerare il tipo di attività che vogliamo svolgere e raccogliere l'attrezzatura necessaria. Sì, facciamo un elenco degli articoli di cui avremo bisogno, come crema solare, bottiglie d'acqua e scarpe comode. È anche una buona idea portare degli snack e un kit di pronto soccorso, per ogni evenienza. Dovremmo scegliere un luogo adatto per la nostra avventura all'aperto, che si tratti di un parco, una spiaggia o un sentiero escursionistico. Assolutamente. La ricerca preventiva della posizione può aiutarci a trovare i luoghi migliori da esplorare. Infine, informiamo qualcuno sui nostri piani e sul tempo di ritorno stimato per motivi di sicurezza. Ottimo punto. È essenziale dare priorità alla nostra sicurezza e far sapere a qualcuno dove ci troviamo. Con tutti questi preparativi pronti, siamo pronti a goderci una fantastica giornata all'aperto. Non vedo l'ora. Sfruttiamo al massimo questo bel tempo e passiamo momenti memorabili. Lezione 33. Servizi dell'hotel. Questo è conveniente. Sto cercando un hotel per il mio prossimo viaggio. Qualcuno di loro ha una piscina? Sì, molti hotel offrono le piscine come uno dei servizi per il divertimento degli ospiti. Questo sì che è fantastico. Adoro nuotare. Posso richiedere una camera con vista sulla piscina? Assolutamente. Al momento della prenotazione, puoi indicare la tua preferenza per una camera con vista sulla piscina. Sarebbe fantastico. Mi piace svegliarmi con una splendida vista al mattino. Sono sicuro che il personale dell'hotel farà del suo meglio per soddisfare la tua richiesta, a seconda della disponibilità. Grazie per le informazioni. Mi assicurerò di menzionarlo quando prenoterò la mia camera. Siete i benvenuti. Vi auguro un soggiorno meraviglioso e godetevi la piscina. Sto cercando un hotel che offra l'accesso a una palestra. Hai qualche consiglio da darci? Sì, molti hotel dispongono di strutture per il fitness a disposizione degli ospiti. È fantastico sentirlo. Mi piace rimanere attivo anche quando viaggio. Avere accesso a una palestra ti consente di mantenere la tua routine di fitness anche quando sei lontano da casa. Sicuramente. È importante per me stare al passo con i miei allenamenti. Al momento della prenotazione, è possibile richiedere informazioni sulle strutture della palestra dell'hotel e sui loro orari di apertura. Mi assicurerò di farlo. Per me è importante avere accesso a una palestra ben attrezzata. Sono sicuro che troverai un hotel che soddisfi le tue esigenze di fitness. Goditi i tuoi allenamenti durante il viaggio. Lezione 35. Ridurre al minimo le distrazioni telefoniche. Sto pensando di disattivare le notifiche sul mio telefono. È intelligente, vero? Assolutamente. Può aiutarti a rimanere concentrato ed evitare di farti distrarre da notifiche costanti. Spesso mi distraggo quando il mio telefono continua a vibrare di avvisi. Disattivando le notifiche, puoi dare priorità alle tue attività e dedicare tutta la tua attenzione a ciò che stai facendo. Sembra un buon piano. Voglio essere più presente e produttivo durante il giorno. È una semplice regolazione che può fare una grande differenza nella tua capacità di rimanere concentrato e impegnato. Lo proverò e vedrò come influisce positivamente sulla mia routine quotidiana. Questa è un'ottima mentalità. Sono sicuro che noterai i vantaggi di ridurre al minimo le distrazioni telefoniche. Lezione 36, Packing Light Avete dei bagagli registrati per il nostro viaggio? No, ho deciso di viaggiare leggero questa volta. Preferisco portare solo un bagaglio a mano. È una scelta intelligente. Può far risparmiare tempo e rendere l'esperienza di viaggio più comoda. La leggerezza delle valigie mi permette anche di essere più flessibile e mobile durante il mio viaggio. Dovrei prendere in considerazione anche l'idea di imballare qualcosa di leggero. È più facile spostarsi senza bagagli ingombranti. Assolutamente. Inoltre, non dovrai preoccuparti di attendere al ritiro bagaglio della possibilità di smarrire il bagaglio. Cercherò di snellire il mio bagaglio e di portare solo l'essenziale. Questo è un buon approccio. Apprezzerai la libertà e la facilità di viaggiare con meno bagagli. Non vedo l'ora di provare i vantaggi di viaggiare leggeri. Lezione 37. Serene Lakeside Retreat Ho trovato un bellissimo hotel per il ritiro del nostro team. È immerso in un lago e offre panorami mozzafiato. Sembra incredibile. Una posizione in riva al lago creerebbe un'atmosfera tranquilla e serena per il nostro rifugio. L'hotel offre anche attività all'aperto come kayak ed escursionismo, perfette per esercizi di team building. Essere circondati dalla natura può ispirare la creatività e offrire un rinfrescante cambio di scenario per tutti. Assolutamente. Inoltre, i panorami mozzafiato lasceranno sicuramente un'impressione duratura sui membri del nostro team. È importante creare un'esperienza memorabile che promuova il legame di squadra e la collaborazione. Sono d'accordo questo rifugio in riva al lago sarà l'ambiente ideale per il nostro team per connettersi e crescere insieme. Sono entusiasta di vedere l'impatto positivo che avrà sulle dinamiche e sulla produttività del nostro team. Lezione 38. Incluso l'ufficio regionale. Quando pianifichiamo la prossima conferenza, dobbiamo includere il team del nostro ufficio regionale? Sì, dovremmo assolutamente includerli. La loro presenza contribuirà a creare un evento più diversificato e inclusivo. L'inclusione dell'ufficio regionale fornirà anche un'opportunità di collaborazione tra team e condivisione delle conoscenze. È importante promuovere un senso di unità e rafforzare le relazioni tra i diversi rami della nostra organizzazione. Assolutamente. La conferenza sarà una piattaforma per lo scambio di idee e la costruzione di una rete forte. Coinvolgendo l'ufficio regionale, possiamo attingere alla loro esperienza e sfruttare le loro prospettive uniche. Sono sicuro che la loro partecipazione arricchirà la conferenza e creerà un'esperienza più completa per tutti i partecipanti. Attendo con impazienza i preziosi contributi e le connessioni che verranno creati con il team regionale. Lezione 39. Disponibilità nel fine settimana. Preferisci il sabato o la domenica per la riunione del nostro team? Entrambi i giorni funzionano per me. Sono flessibile con i miei orari. Che mi dici di te? C'è un giorno in particolare che ti si addice meglio? Sono aperto sia il sabato che la domenica. Scegliamo il giorno che funziona meglio per la maggioranza. Sembra giusto. Considereremo la disponibilità di tutti e troveremo un giorno adatto per la riunione del team. È importante garantire che tutti possano partecipare e partecipare attivamente alla riunione. Assolutamente. Vogliamo massimizzare la produttività e il coinvolgimento dei membri del nostro team. Raccogliamo le preferenze di tutti e selezioniamo il giorno che accoglie più persone. Lezione 40. Opzione vegetariana. C'è un'opzione vegetariana nel menu del nostro evento? Sì, abbiamo una deliziosa frittura di verdure che i nostri ristoratori possono preparare. È fantastico sentirlo. È importante fornire opzioni dietetiche per tutti i partecipanti. Assolutamente. Vogliamo essere inclusivi e soddisfare le diverse esigenze e preferenze alimentari. L'offerta di un'opzione vegetariana garantisce che tutti possano gustare il pasto senza restrizioni. Ci assicureremo di comunicare la disponibilità del soffritto di verdure a tutti i partecipanti. È essenziale considerare le diverse esigenze dei nostri ospiti e creare un ambiente inclusivo. Offrendo un'opzione vegetariana, possiamo soddisfare una gamma più ampia di esigenze e preferenze dietetiche. Lezione 41. Personalizzare le nostre case. Come possiamo rendere le nostre case davvero nostre? Un modo è incorporare tocchi personali come foto di famiglia e opere d'arte significative. L'aggiunta di elementi che hanno un valore affettivo può creare un senso di calore e comfort. Possiamo anche scegliere mobili e decorazioni che riflettano il nostro stile e le nostre preferenze personali. Personalizzare i nostri spazi abitativi con pezzi unici può far sentire le nostre case più speciali e personalizzate. È importante creare un ambiente che sia in sintonia con i nostri gusti e interessi individuali. La personalizzazione delle nostre case ci consente di esprimere la nostra identità e creare uno spazio che rifletta chi siamo. Infondendo il nostro tocco personale, possiamo trasformare le nostre case in case che ci appartengono veramente. Lezione 42. Esplorazione degli hobby. Qual è il tuo hobby preferito? Adoro il giardinaggio e la coltivazione di ortaggi. È incredibilmente appagante coltivare il mio cibo. Sembra magnifico. Il giardinaggio può essere sia rilassante che gratificante. È un ottimo modo per entrare in contatto con la natura e assistere alla bellezza delle piante mentre crescono. Hai qualche consiglio per qualcuno interessato ad avviare un giardino? Inizia in piccolo e scegli piante adatte al tuo clima e allo spazio disponibile. Questo è un buon consiglio. È importante considerare gli aspetti pratici prima di immergersi. Inoltre, non dimenticare di dare alle tue piante cure e attenzioni adeguate, annaffiandole e concimandole regolarmente. Lo terrò a mente. Il giardinaggio sembra un hobby appagante e divertente da perseguire. Sicuramente lo è. Ti permette di nutrire e assistere alla crescita degli esseri viventi, il che può essere incredibilmente soddisfacente. Lezione 43. Affrontare una brutta giornata. Ok, non preoccuparti. Stai solo passando una brutta giornata. Sembra travolgente, ma cercherò di rimanere positivo e di andare avanti. Ricordati di fare respiri profondi e di prenderti cura di te stesso. Farò una breve pausa e cercherò di rilassare la mente prima di affrontare di nuovo le cose. A volte, una piccola pausa può fare una grande differenza nel modo in cui ci sentiamo. Ricorderò anche a me stesso che domani è un nuovo inizio e un'occasione per una giornata migliore. Questo è lo spirito. Tieni la testa alta e sappi che ci attendono tempi migliori. Grazie per l'incoraggiamento. È confortante avere qualcuno che capisce. Abbiamo tutti i giorni difficili, ma è importante ricordare che non ci definiscono. Hai ragione. Mi concentrerò sul quadro generale e non mi lascerò abbattere da questa brutta giornata. Hai questo. Rimani resiliente e presto le cose andranno meglio. Lezione 44. Selezione degli alimenti Qualche consiglio su come selezionare i prodotti alimentari al supermercato? Controlla la data di scadenza e assicurati che non si avvicina alla fine. Questo è importante per garantire la freschezza e la qualità del prodotto. Inoltre, ispeziona la confezione per eventuali segni di danneggiamento o manomissione. È fondamentale scegliere articoli adeguatamente sigillati e in buone condizioni. Un altro consiglio è leggere l'elenco degli ingredienti e le informazioni nutrizionali. Essere consapevoli di ciò che consumiamo aiuta a fare scelte più sane. Infine, confronta i prezzi e considera eventuali offerte speciali o sconti. Questo è un modo intelligente per risparmiare denaro mentre fai la spesa. Seguendo questi suggerimenti, possiamo prendere decisioni informate e selezionare i prodotti migliori per le nostre esigenze. Lezione 45. Pianificare un viaggio Fantastico! Prenotiamo i voli e l'hotel. Dovremmo noleggiare un'auto per comodità? Noleggiare un'auto può rendere più facile spostarsi ed esplorare la zona. Questo è vero. Ci darà maggiore flessibilità durante il nostro viaggio. Dovremmo anche considerare il costo e la disponibilità del parcheggio presso i nostri alloggi. Ottima osservazione. Non vogliamo essere operati da tariffe di parcheggio elevate o spazi limitati. Inoltre, possiamo ricercare le opzioni di trasporto pubblico nella destinazione. L'uso dei mezzi pubblici può essere un'alternativa economica ed ecologica. Vale anche la pena controllare se sono disponibili abbonamenti o sconti per i trasporti locali. È un'idea intelligente. Può aiutarci a risparmiare sulle spese di trasporto. Nel complesso, valutiamo i pro e i contro e decidiamo quale opzione funziona meglio per il nostro viaggio. Lezione 46. Preparare i piani per il pranzo. Salve, Peter. Lui è John. Ti chiamo per sapere se vuoi pranzare insieme domani. È bello entrare in contatto e fare progetti con gli amici. Assolutamente. È importante coltivare le nostre relazioni e trascorrere del tempo di qualità insieme. Prendi in considerazione la possibilità di scegliere un ristorante accogliente con un ambiente piacevole per un pranzo rilassante. Sembra un'ottima idea. Un ambiente confortevole può migliorare l'esperienza culinaria. È inoltre opportuno verificare se Peter ha preferenze o restrizioni dietetiche. Prendere in considerazione le sue preferenze dimostra che apprezziamo le sue esigenze e le sue scelte. E non dimenticare di confermare l'ora e il luogo del pranzo. Sì, una comunicazione chiara assicura che tutti siano sulla stessa pagina. Sono sicuro che Peter apprezzerà l'invito. È sempre bello chiacchierare dopo un pasto. Anzi. Non vedo l'ora di passare del tempo con lui e gustare del buon cibo. Buongiorno. Sì, sono nuovo. Mi chiamo Emily. Sono entrato in azienda la settimana scorsa. Benvenuta, Emily. È bello averti come parte del nostro team. Siamo lieti di averti a bordo. C'è qualcosa che possiamo fare per aiutarti a sistemarti? Se hai domande o hai bisogno di assistenza, non esitare a chiedere. Siamo qui per supportarti. Grazie a entrambi per la calorosa accoglienza. Sono entusiasta di essere qui e contribuire alla squadra. Siamo felici di averti qui, Emily. Sono sicuro che sarai bravissimo nel tuo ruolo. Non esitare a contattarci se hai bisogno di assistenza o se c'è qualcosa che vorresti sapere sull'azienda. E ricordate, siamo tutti qui per aiutarci l'un l'altro a crescere e ad avere successo. Fai parte di un ambiente di lavoro solidale e collaborativo. Benvenuta ancora una volta, Emily. Vengo dal Brasile. Sono arrivato qui ieri. Benvenuto nella nostra città. È la prima volta che visiti? Grazie per il caloroso benvenuto, John. Sì, questa è la mia prima visita nella tua città. Spero che vi godiate il vostro soggiorno e che abbiate un'ottima esperienza esplorando le attrazioni della nostra città. Sono entusiasta di saperne di più sulla cultura locale e vedere i luoghi di interesse. Se hai bisogno di consigli o indicazioni, non esitare a chiedere. Sono qui per aiutarti. È molto gentile da parte tua, John. Apprezzo la tua disponibilità ad aiutare. È un piacere per me. Voglio assicurarmi che abbiate una visita memorabile e piacevole. Grazie ancora per la tua ospitalità. Non vedo l'ora di scoprire la bellezza della tua città. Sei la benvenuta, Anna. Divertitevi ad esplorare le meraviglie della nostra città. Lezione 49. Condivisione di spettacoli musicali. Principalmente per divertimento, ma mi sono esibito in alcuni eventi locali. È impressionante. È fantastico avere uno sbocco creativo come la musica. È un hobby che seguo da anni. La musica porta gioia nella mia vita. Posso immaginare quanto debba essere appagante condividere il proprio talento con gli altri? Assolutamente. È una sensazione incredibile entrare in contatto con un pubblico attraverso la musica. Hai mai pensato di registrare le tue canzoni o di creare un album? Mi è passato per la mente, ma non l'ho ancora esplorato a fondo. Potrebbe essere un'ottima occasione per mostrare le tue composizioni originali. Hai ragione. Dovrei indagare e vedere dove mi porta. Sono sicuro che i tuoi amici e la tua famiglia vorrebbero avere una copia della tua musica. Lezione 50. Scegliere tra molte opzioni. Sì, ma ci sono tante opzioni. Sono sopraffatto. È comprensibile. A volte avere troppe scelte può essere difficile. Voglio prendere la decisione migliore, ma non sono sicuro di quale sia l'opzione giusta per me. Prenditi il tuo tempo e considera ciò che è più importante per te. Dai priorità alle tue esigenze e preferenze. Cercherò di restringere le opzioni in base alle mie priorità e a ciò che è in linea con i miei obiettivi. Potrebbe essere utile fare qualche ricerca e raccogliere informazioni su ciascuna opzione. Questo è un buon suggerimento. Essere ben informati può semplificare il processo decisionale. Inoltre, non esitate a chiedere consiglio ad amici fidati o professionisti che hanno esperienza in materia. Hai ragione. Le loro intuizioni e prospettive possono fornire una guida preziosa. Ricorda, non c'è fretta. Prenditi il tempo necessario per prendere una decisione ponderata e informata. Grazie per il supporto e i consigli, Anna. Affronterò il processo decisionale con una mentalità più chiara. Grazie per la visione.